Tempi duri per i furbetti del cassonetto. Da poche ore il comune di Fano in collaborazione con ASET SPA ed il corpo della polizia locale ha collocato in 16 isole ecologiche altrettante telecamere funzionanti 24 ore su 24 per scovare chi, in barba le più elementari norme di civiltà e senso ecologico, scambia le suddette isole per delle discariche a cielo aperto dove riversare rifiuti di ogni natura e dimensione. Il comune di Fano è da tempo in prima fila su questo aspetto. La raccolta dei rifiuti differenziata ha infatti fatto guadagnare riconoscimenti a livello nazionale grazie alla buona condotta dei cittadini. Ed è proprio per tutelare questi cittadini virtuosi che il comune ha imboccato questa strada precisa. Tutelare maggiormente l'ambiente e garantire che ci sia un corretto smaltimento dei rifiuti nelle aree ecologiche e in generale sul territorio comunale. E dall'altro per mandare anche un messaggio alla cittadinanza e cioè che chi sporca paga perché la nostra è una città che ottiene dei risultati eccezionali per quanto riguarda la raccolta differenziata. Il motivo per cui il comune di Fano insieme a ESAT e SPA sono stati anche premiati quest'anno a livello nazionale e questo anche grazie al contributo e al corretto modo di rapportarsi con questo tema dei cittadini. Al corpo di polizia locale il compito di visionare e sanzionare i riversatori di mondizia indefessi stando alle immagini immortalate dalle videocamere che naturalmente essendo mobili saranno posizionate di volta in volta strategicamente secondo le esigenze in luoghi ritenuti sensibili e nelle oltre 300 isole ecologiche della città. Questo senza naturalmente sostituire il servizio delle guardie ecologiche che rimane comunque attivo. Visionare, mantenere, trattenere e ovviamente formatare e cancellare tutti quelli che non servono nel rispetto della privacy e sanzionare poi pochi, speriamo che siano pochi che non rispettano le regole nell'interesse dei tanti. In tante occasioni e a seguito delle segnalazioni dei nostri telespettatori anche Fano TV ha testimoniato di questa cattiva abitudine di alcuni cittadini e anche sui social fioccano spesso le foto e i commenti su divani, poltrone, giocattoli e quant'altro lasciati lì alla meno peggio. Sarebbe auspicabile per Aset che queste segnalazioni arrivassero anche a loro in modo da essere più solerti nel recupero degli stessi. Noi stiamo attuando una serie di politiche di comunicazione perché oltre alla deterrenza c'è anche l'informazione. Affronteremo nei prossimi mesi anche una campagna presso le scuole e quindi confidiamo che attraverso anche questo tipo di movimento e di spinta anche dal basso, quindi dalle giovani generazioni, si possa migliorare sempre meglio. Il Comune di Fano ha messo le telecamere vicino alle isole ecologiche per scovare quelli che buttano le cose sbagliate, divani, plastiche, che ne pensi? La trovo un'ottima iniziativa. Anche dal punto di vista ecologico, verde, insomma il rispetto dell'ambiente è importante. Le telecamere servono a scoraggiarli, pensi? Sì, probabilmente sì. Finalmente si riuscirà ad avere un po' di... Secondo me è una cosa buona. Prendiamo più teppistelli e impariamo a mantenere l'ordine pubblico. Buttare le robe sbagliate, insomma per voi giovani è anche importante sapere quello che si può fare e non fare. Io penso che la nostra età, imparare a fare la cosa differenziata ormai sia importante, anche perché siamo i futuri cittadini, quindi dobbiamo imparare più o meno come funziona. Le camere possono essere un deterrente, anche se sicuramente c'è una spesa da affrontare, una parte del Comune, però potrebbe essere un deterrente sicuramente. Un po' di controllo ci vuole, però non lo so fino a che punto siamo arrivati al grande fratello, capito? Per cui non lo so, però dovrebbero essere magari i cittadini un pochino più responsabili. Al Comune di Fanno hanno pensato di mettere le telecamere sui cassonetti per scovare i furbetti che buttano i rifiuti sbagliati, che ne pensi? Sì, penso che sia positivo, penso, più che positivo, così la gente sta più attenta, più educata, più che altro. La telecamera può essere un deterrente per quelli e scoraggiare quelli che fanno un po' come gli pare? Sì, penso di sì, 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 sono convinto.